Bitcoin arriverà a 100.000 dollari, Bitcoin arriverà a 10 milioni di dollari, Bitcoin arriverà a un milione di dollari, un miliardo di dollari, cazzo, tutto! Migliaia di previsioni, migliaia di take profit, di target sparati nella rete, ma dov'è il senso di questi numeri completamente inventati? Un analista non può ragionare in questo modo e quando andiamo a fare una previsione su quello che può essere il prezzo di uno strumento finanziario, dobbiamo ragionare su quello che possediamo, che abbiamo in mano, che tocchiamo in mano ragazzi, cioè i dati in questo momento. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, Mauro Caimi qui con voi per la seconda puntata dedicata all'alving di Bitcoin, a questo evento magnifico e importantissimo della struttura di Bitcoin, oggi parliamo di quello che dobbiamo aspettarci, dovremmo aspettarci relativamente al futuro di Bitcoin, quindi quello che interessa moltissimi trader, moltissimi investitori, come per esempio la previsione di prezzo, dove può arrivare Bitcoin secondo il modello dell'alving. E allora andiamo sui grafici per vedere tutti questi numeri basandoci su quelli che abbiamo già visto nel primo video, quindi voi non lo avesse visto il primo video, vi lascio il link sopra la mia testa che è in descrizione, ma andatelo a vedere, poi ritornate a vedere questo se volete avere la view chiara di tutto. Oggi andiamo quindi a riguardare quel grafico, però ragioniamo su due punti importanti, cosa ci ha insegnato il passato, cosa ci dice il modello dell'alving, il modello ciclico dell'alving e quali sono i dati che possiamo trarne per ottenere la previsione futura di due numeri, due valori che ci interessano, non uno ragazzi, non solo il prezzo, due ce ne interessano, il target di Bitcoin secondo il modello dell'alving e il timing, quanto tempo può metterci per arrivare a questo target. Prima di andare a vedere i grafici, indovinate un po' cosa vi chiedo, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi i pollici in su, mi date una grande mano, ma poi soprattutto mi piace ragazzi perché negli ultimi video, quanti like sui miei video, contentissimo, io voglio vedere, sforare quella soglia dei 500 like, soprattutto per questi video che sono bellissimi ragazzi, mi emoziono quando faccio questi video, si vede perché è bello e perché ci dà anche una grande speranza a chi come noi, insomma, adora Bitcoin, adora il criptovalute. Andiamo subito a vedere cosa ci dicono i grafici perché voglio farvi vedere tanti numeri che so, interesseranno molti di voi. Allora ragazzi, prima cosa, analizziamo il passato, l'abbiamo già fatto nel video precedente quindi vado molto veloce. Prima cosa, ragioniamo sul prezzo e il target di prezzo, seconda cosa, ragioniamo sul timing. Allora, prezzo ragazzi, primo halving, primo ciclo dell'halving, 9.063%, secondo ciclo dell'halving, rialzo dal punto dell'halving al massimo dell'halving del 2865%. L'accelerazione non è la stessa, ragazzi, infatti c'è stata una riduzione del tasso di accelerazione che praticamente consiste nel passaggio da questo punto a questo e da questo punto a questo qui, ragazzi. Accelerazione di Bitcoin si è ridotta del 68% e 38%, ragazzi, si è ridotta di quasi il 70%. Questo è importantissimo considerarlo, ragazzi, perché dobbiamo andare a fare delle previsioni di prezzo che siano corrette e che si basino su dei dati. Poi, ragazzi, il mercato farà quello che vuole, questo è chiaro, ma vedremo alla fine del video che vi dirò anche il mio punto di vista e su cosa dobbiamo anche andare a ragionare poi per vedere se questi numeri che vediamo oggi possono essere considerati attendibili e fino a che punto. Lo vedremo alla fine del video, però, questa cosa. Se il modello del ciclo dell'halving viene rispettato, ragazzi, noi dovremmo avere questo andamento, ok? E viene ripetuto di nuovo qui in questo modo. Tecnicamente dovrebbe essere un atteggiamento similare, poi vedremo se è vero o non è vero. Però a me interessa questo in questo momento. Se io ho un tasso di accelerazione che, ipotizzo, si riduca anche in questo halving della stessa entità di riduzione del tasso di accelerazione precedente, quindi si riduce del 70% circa, significa che il mio rendimento possibile, ragazzi, non sarà 2865, bensì sarà, vi ho già fatto i calcoli, circa il 900%. Nel momento in cui io ipotizzo che al 12 maggio i prezzi siano intorno ai 9000 dollari, questo porterebbe a un target price di Bitcoin, già lo vedete, intorno agli 80.000 dollari. Per scaramanzia facciamo 78.900, proprio identico, ragazzi. Questo è il target price che noi possiamo calcolare di Bitcoin sui dati passati, ragazzi. Quindi in questo momento i dati passati ci dicono che Bitcoin, se segue il modello dell'halving, potrà fare un'impennata dal 12 maggio in poi, ma non subito, questo lo vedremo tra poco, del 900% e arrivare ai fatidici 80.000 dollari, 78.900 dollari. Io lo so che molti di voi in questo momento sono delusi. Se vi mettono target price di un milione di dollari e follie senza senso, è chiaro che poi quando andiamo a toccare con mano i dati veri, ragazzi, si resta sempre un po' delusi. Però non bisogna essere delusi e vedremo anche perché. Alla fine del video vi dirò anche il mio punto di vista su questi numeri, però in questo momento una cosa mi preme dirla. Questi numeri, ragazzi, sono elevatissimi per un mercato come questo, appunto, delle criptovalute, quindi non li considerate così piccoli perché non è proprio così, quindi non sono numerini e l'unico livello di prezzo stimabile di Bitcoin relativo a quello che è il modello dell'halving può essere questo, ma vi dirò ancora di più, questo, ragazzi, è un prezzo di stima alto perché stiamo ipotizzando che il tasso di accelerazione si riduce della stessa entità, ma questo probabilmente non sarà così, sarà una riduzione maggiore ancora. Andiamo a fare un altro target price e facciamo la forchetta di prezzo sul grafico. Allora, ragazzi, una riduzione dell'80% del tasso di accelerazione porterebbe Bitcoin a un incremento solo, tra virgolette, del 580%. Avremo in pratica una forchetta che, guardate un po' cosa fa, dai 50.000 dollari, ragazzi, 49.600 a 78009. Questi livelli sono la nostra forchetta relativa alla previsione di prezzo di target di Bitcoin nel prossimo ciclo dell'halving. L'atteggiamento di Bitcoin dovrebbe essere esattamente questo nella struttura del ciclo dell'halving se l'halving verrà rispettato, ragazzi. Questo, tecnicamente, è quello che dovrebbe accadere. Il disegno, ragazzi, ma da un punto di vista di prezzo avete visto i target realistici, quelli fatti di numeri con mano. Andiamo a fare l'ultima analisi sul timing e poi le conclusioni. Quanto tempo ci ha messo? Perché questa è un'analisi importante. Allora andiamo nel passato e andiamo a vedere quant'è la distanza dal giorno dell'halving al giorno del suo massimo. Nel primo caso, del primo halving, ragazzi, una distanza di un anno, 367 giorni. Nel secondo caso, 525 giorni. Nel secondo caso, quando si va a salire da un numerino molto piccolo, come erano 12 dollari, a un numerino molto grande, comunque 1000 dollari, ma in ogni caso non paragonabile agli attuali prezzi, 9000 di Bitcoin, è più facile arrivarci. Perché? Perché bastano meno soldi. Cioè, voi dovete capire che alla fine di tutto questo giochino, quello che conta nel mercato delle criptovalute è l'afflusso di liquidità. Quindi, una cosa è partire da 12 dollari e arrivare a 1000, una cosa è partire da 10.000 e arrivare a 80.000. Ci vogliono più soldi, quindi ci vuole più tempo, ragazzi. Questo è il discorso. Perciò, credo che a livello logico una stima temporale di un 520 giorni, ma anche di più, sia assolutamente valida anche per il prossimo ciclo dell'halving. Quindi, ragazzi, io direi stiamo intorno ai 600 giorni. Quindi facciamo così da 550 a 600 giorni. Alla fine abbiamo trovato una fascia di prezzo e una fascia di tempo in cui attenderci questo massimo di Bitcoin e del nuovo ciclo dell'halving. Saremo intorno a novembre del 2021, a febbraio del 2022. Ragazzi, questo è a livello temporale la zona temporale che dobbiamo aspettare secondo quello che il modello dell'halving ci sta indicando. Target price, secondo il modello dell'halving, 50-80.000 dollari e, temporalmente, novembre 2021, febbraio 2022. Conclusioni. Allora, ragazzi, quello che penso del modello dell'halving di Bitcoin e di tutti questi dati che abbiamo spulciato sono veri, non sono veri, sono attendibili. I dati sono sempre attendibili. Abbiamo visto che a livello temporale ci vogliono circa due anni per raggiungere forze in questi prezzi. se dovesse succedere, ragazzi, ricordatevi che sono numeri teorici, non è la realtà, il futuro non si ripete come il passato. Bitcoin veramente avrà una struttura diversa dal 12 maggio in poi da un punto di vista di analisi fondamentale e questo va considerato. Perciò, il ciclo dell'halving avverrà, volente o nolente, avverrà in ogni caso, ragazzi. Ora, il problema è capire se il prezzo di Bitcoin, che poi è quello che interessa a un trader e a un investitore, potrà effettivamente raggiungere quei livelli lì. Ragazzi, questa cosa, questa cosa, sarà legata, secondo me, al tasso di adozione. Perché nell'attuale mondo il modello halving ancora è valido perché ha una struttura fondamentale. Però il tasso di adozione di Bitcoin è molto importante sul raggiungimento dei suoi livelli di prezzo. Ma anche sul mantenimento, ragazzi, perché abbiamo visto che il modello dell'halving va a un massimo ma poi scende. Si manterrà questo atteggiamento? Io non credo che sarà identico in questo halving. Lo vedremo comunque nei prossimi anni. Ma il tasso di adozione con un Bitcoin che vale 10.000 dollari e con stime che ci portano da 50 a 80.000 dollari è fondamentale, ragazzi, per arrivarci intanto, per mantenere quei livelli di prezzo. Ma perché no, ragazzi? Anche una cosa che non abbiamo considerato per superare quei livelli di prezzo. Perché? Perché noi abbiamo visto un modello dell'halving che è avvenuto nei mercati ma con un tasso di adozione non altissimo. Non abbiamo impattato un nuovo mondo. Non c'è stato un nuovo ordine mondiale. Non c'è stato un nuovo cambio radicale. Ci sarà nei prossimi anni? Questo non lo sa nessuno. Dovremmo vedere. Molti stanno già pensando delle criptovalute alternative per quanto riguarda le banche centrali. Di questo. Ne parleremo nei prossimi video. Alternativa o l'originale Bitcoin? Probabilmente le alternative esisteranno. Se il tasso di adozione sarà effettivamente maggiore di quello che abbiamo visto in questi cicli dell'halving passati allora perché no, ragazzi? I prezzi potrebbero essere anche più alti. Perciò sott'occhio il tasso di adozione. Ne parleremo in un altro video. Ciao a tutti come sempre e fatemi sapere cosa ne pensate. Che lavoro, ragazzi! Ciao!